Io e Marco ci allontaniamo perché da bravi maschietti sappiamo anche noi quant'è il momento, quando è giunto il momento di saper salutare. Io e Marco vi salutiamo, però a Jessica lasciamo il tempo e lo spazio per salutarvi in una maniera diversa. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.